Buongiorno, andiamo oggi a risolvere questo esercizio nel quale abbiamo dei componenti, delle impedenze e dobbiamo andare a calcolare l'impedenza totale equivalente, il fasore ITOT, cioè la corrente che circola nel circuito, cioè che il generatore eroga, e lo sfasamento tensione corrente tra la tensione di ingresso e la ITOT. Allora, per prima cosa andiamo a trasformare i nostri componenti da resistenza, reattanza capacitiva e reattanza induttiva a impedenze, quindi andiamo a scrivere la nostra ZR, che sarà uguale ad R, quindi sempre 50 Ohm, allora io tralascio per velocità le unità di misura, così facciamo prima, Poi abbiamo ZC1, che sarà meno J30, poi abbiamo ZC2, che sarà meno J70, ZL1, che sarà più J60, e ZL2, che è più J90. Ok, a questo punto la prima cosa che devo andare a fare è andare a fare il parallelo di ZL1 e ZL2. Allora, io posso andare a ridisegnare il circuito, anziché mettere queste simbologie, mettere il rettangolo che indica l'impedenza per velocità e evito di rifarlo. Allora, quindi andiamo a chiamare, ad esempio, ZL generica, che sono tanto, anzi, no, chiamiamo Z1,2, chiamiamo Z1,2 ed è ZL1 parallelo con ZL2. Allora, al parallelo si utilizza ovviamente l'espressione complessa che abbiamo qua, ed è molto semplice, vedremo poi in altri esercizi, invece è un pochino più complicato quando si ha una parte resistiva e una parte capacitiva induttiva. Qua vediamo che risulta poi molto semplice. Allora, qua abbiamo ZL1 per ZL2, esattamente come le resistenze in parallelo, ZL1 più ZL2. Ora qua andiamo a sostituire e ci verrà J60 per J90 e sotto J60 più J90. A questo punto avrò al numeratore avrò un J al quadrato 6 per 9, 54 con due zeri e al denominatore avrò J150. A questo punto posso andare a semplificare il J quadro con il J di sotto, quindi mi rimane solo J. e quindi mi rimane un J 5400 diviso 150 mi viene 36 e quindi tutta questa mi viene questo parallelo, mi viene questa. Allora, adesso mi conviene andare a ridisegnarlo, quindi rivado a disegnare il circuito, ecco qua che ho rifatto il disegno. Ora non ci resta che fare la Z equivalente che sarà la somma di ZR1, sono tutte in serie ormai, ZC1 più Z1 2 più ZC2. Quindi avremo 50 meno J30 poi Z1 2 che è quella che abbiamo calcolato, quindi più J36 e ZC2 che è meno J70. Ovviamente farò parte reale con parte reale, parte immaginaria con parte immaginaria, di reale c'è solo il 50 che rimane lì e poi farò meno 30 più 36 meno 70, quindi meno 100 più 36 che fa meno J64. E questa è la Z equivalente in forma complessa, parte reale, parte immaginaria. Per andare a trovare l'ITOT, adesso vado a fare il modulo di Z equivalente facendo la radice quadrata della parte reale al quadrato più la parte immaginaria al quadrato. Allora, siccome sono al quadrato, io di questo meno potrei anche dimenticarmi, però per essere fiscali nella dicitura la cosa più corretta è comunque mettere le parentesi e mettere poi al quadrato. Poi sappiamo che al quadrato il segno meno tanto se ne va, non siamo proprio matematici fiscali, però scriviamola bene. Quindi qua sarebbe il meno 64 al quadrato che poi è comunque uguale a più 64, quindi, ok? Però così è scritto in modo più corretto. Andiamo quindi a trovare il modulo che è 81,22. Per quanto riguarda invece la fase, quindi fi Z, sarà uguale tangente alla meno 1, quindi tangente alla meno 1 della parte immaginaria con il suo segno, quindi in questo caso meno 64, allora facciamo la nostra linea di frazione, così, quindi meno 64 fratto 50. Andiamo a calcolare l'angolo, ci viene un angolo di meno 52 gradi, quindi se vogliamo andare a scrivere Z equivalente in forma polare, che poi è quella che ci serve per andare a fare il calcolo della ITOT in modo più agile, allora io lo scrivo così, poi ci aggiungo quel che serve così a mano, quindi questa in forma polare. l'ITOT a questo punto sarà uguale a mettiamo un pochino più lunga, allora, alla WIN in forma polare, e WIN in forma polare possiamo andare a scriverlo qua, e andiamo sempre a considerare la WIN come 70 e angolo 0, per semplicità andiamo a, a meno che non ci sia specificato, andiamo a prenderla con angolo uguale a 0, quindi qua andremo a scrivere WIN fratto Z equivalente entrambi, così ci portiamo dietro il modulo e la fase, se uno volesse potrebbe anche ragionare senza, cioè solo con i moduli, ovviamente, e le fasi, gli angoli, non considerarli, però diciamo che in questo caso qua invece serve portarli per poi vedere il discorso dello sfasamento, quindi WIN abbiamo detto 70, angolo 0, e Z equivalente 81,22, angolo meno 52, vado a completare, quindi l'i-tot sarà uguale a, faccio il calo, 0,86 circa, l'angolo, allora a differenza degli angoli quindi 0, meno 52, più 52, e quindi qua sarà più 52 gradi, così, se io voglio andare, quindi questo è il fasore dell'i-totale, lo sfasamento tensione corrente, avrò la tensione che è lunga 70, quindi la faccio un po' più lunga, non sarà poi in scala, e sfasata di 0, quindi così, mentre la, ci scriviamo anche che questa è la WIN, mentre la corrente che scriviamo in rosso sarà 0,86, quindi molto più corta, con angolo 52, quindi più o meno sarà una cosa così, questo è 45, un po' più di 45, diciamo senza essere troppo pignoli, quindi questo è la hit-hot, qua vado ancora a mettere questo, e l'angolo che è, l'abbiamo chiamato, questo andiamo a chiamare, è il nostro angolo fi, che è lo sfasamento tra V e D, quindi essendo 1 a 0, questo è 52, ovviamente il nostro sfasamento fi sarà di 52 gradi, quindi la corrente è in anticipo rispetto alla tensione di questo angolo, di 52 gradi, e questo è ovvio, poiché la Z equivalente è un'impedenza ohmico-capacitiva, perché c'è il meno sulla G, quindi il, diciamo, la parte capacitiva prevale sulla parte induttiva. Spero di essere stata chiara, ci sentiamo al prossimo video. Spero di essere stato chiara,